L'informazione, il diritto alla cronaca e il lavoro di denuncia nella nostra città sono un diritto sacrosanto da difendere in tutte le circostanze. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio De Caro dopo la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione di Monica Laera che nel febbraio di tre anni fa minacciò di morte e aggredì fisicamente la giornalista del Tg1 Maria Grazia Mazzola. La condanna per lesioni e minacce con aggravante del metodo mafioso, commenta De Caro, riconosce la brutalità dell'aggressione subita da Maria Grazia Mazzola mentre svolgeva il suo lavoro. Il Comune, nel costituirsi parte civile con gli avvocati civici Bianca Laura Capruzzi e Camilla Caporusso nel processo e i danni di Monica Laera, ha voluto sin da subito condannare con fermezza quest'atto violento chiaramente riconducibile a logiche di supremazia e controllo del territorio propri dei clan criminali. A Maria Grazia Mazzola che con coraggio ha denunciato l'accaduto giunga l'abbraccio dell'intera città e la solidarietà di tutti i baresi che come lei non si sono mai resi davanti a queste logiche.